Come è possibile che in una città come Napoli, con un problema che è quello dell'emergenza rifiuti, non si faccia il vuoto a rendere con delle apposite macchinette o dispositivi che vengono inseriti i vuoti sia di plastica o di vetro, come succede in altre città europee come in Germania e anche in Grecia, dove possono essere restituiti dei crediti a favore sia dei boni spesa o dei soldi per quanto riguarda una raccolta più sostenibile e compatibile con l'ambiente. Questa è una proposta interessante, anche io ho trasferito più volte le stesse considerazioni ai responsabili di Asia, penso al vuoto a rendere, botti di plastica, di vetro, ma anche cartoni, l'ho visto fare anche a San Francisco, secondo me può essere una buona abitudine educativa e può essere anche remunerativa e vale per differenziare i rifiuti, cioè quello di andare in un luogo dove si consegnano i rifiuti differenziati e in cambio si può ottenere anche una moneta in modo che diventa un incentivo, è una proposta interessante che condivido. Perché chiudere così tante strade senza pensare prima di potenziare i servizi? Sulla ZATL è difficile trovare un equilibrio a Napoli, se avessimo aspettato il funzionamento del servizio pubblico del trasporto al meglio, non avremmo mai fatto pedonalizzazioni, ZATL, lungomare liberato, perché purtroppo in un momento di crisi economica non possiamo investire per acquistare nuovi autobus, mezzi pubblici su gomma e quant'altro. Quindi probabilmente abbiamo fatto qualche errore di rigidità in alcune applicazioni della ZATL, penso a Via Acton, a Piazza San Nazaro dove non mi hanno mai convinto quei dispositivi e infatti li ho voluti eliminare. Adesso credo abbiamo trovato un equilibrio, non abbiamo rinunciato alle pedonalizzazioni, anzi ne vogliamo fare molte altre, abbiamo un po' ridotto le ZATL perché preferiamo le pedonalizzazioni, abbiamo trovato dei punti di equilibrio, ad esempio consentendo ai motorini di poter passare su Piazza Dante come su Via Duomo, abbiamo modulato meglio gli orari, credo che adesso complessivamente si è trovato un equilibrio. Noi vogliamo però una città con sempre più aree pedonalizzate perché i turisti e i cittadini apprezzano i luoghi in cui possono camminare, stiamo cercando di migliorare il trasporto pubblico, vorrei ricordare che questa amministrazione ha investito sulla metropolitana, ha ottenuto i fondi, ha aperto Garibaldi, adesso apre Municipio, stiamo cercando di salvare le aziende del trasporto pubblico come quella su gomma, tanto è vero che non è fallita e oggi stiamo intorno ai 370 autobus per strada, voglio assolutamente che al più presto la metropolitana arrivi almeno il fine settimana fino a luna di notte, insomma senza soldi noi puntiamo molto sulla vivibilità, sulle pedonalizzazioni, sulle piste ciclabili, car sharing che è partita, bike sharing che parte a maggio e anche quindi sul trasporto pubblico in generale, ma è bello immaginare un'idea di città dove si possa camminare per strada. Buongiorno signor Sindaco, io vorrei sapere se ci sono soluzioni per una città più pulita, soprattutto nella mia zona che è Salvatore Rosa, ci sono molte aiule sporche e abbandonate e anche con molti animali. Allora il tema della pulizia mi sta molto a cuore, perché Napoli se è vero che l'abbiamo liberata dall'emergenza rifiuti, dai cumuli di spazzatura, l'assenza di risorse ci impedisce in questo momento di tenerla pulita come vorremmo, perché non possiamo assumere operatori ecologici, un'età media di quasi 60 anni, non possiamo comprare le spazzatrici nel numero che vorremmo, però è anche vero che si devono mettere in campo diverse iniziative per stimolare tutti a tenere più pulita la città, come abbiamo fatto adottare sinora, grazie alla partecipazione dei cittadini, circa 170 luoghi, credo che sia utile proseguire in questa strada, c'è una fioriera, un'aiola, un piccolo giardino, possono essere tenute bene anche dai commercianti, dai cittadini, dai condomini, bisogna fare un lavoro insieme perché il comune da solo non ce la fa tenere tutta la città pulita, anche perché ce lo dobbiamo dire, seppur una minoranza c'è anche in civiltà nella nostra città, sono persone che gettano le carte per strada, che gettano i sacchetti di spazzatura fuori dagli orari consentiti, quindi ci vuole un maggior senso civico da parte di tutti, in generale sempre, ma in particolare in questo momento che con la crisi economica non possiamo avere strutture, mezzi e personale idoneo per pulire tutta la città.